Ma l'ante sole, fiovello in me, o sole mio, stai pronta a te. Ma l'ante sole, fiovello in me, o sole mio, stai pronta a te, stai pronta a te. Ma l'ante sole, fiovello in me, o sole, fiovello in me, o sole, fiovello in me. I came to Greece, and I came to my country, the music world. I had a music gymnasium, music world, I had a success from there. I saw that things were difficult. The world was over, the world was over, the farsars, the one and the other. The system changed. As all the others, I went to the streets. But I wanted to leave to be able to finish my studies. It was the dream of life, it didn't happen otherwise. I wanted to leave my father and leave me alone, because it didn't happen otherwise. To finish my studies there, it didn't happen. From five years I work, from when I remember myself. I worked with a lot of children's festivals in Albania. I got the first awards, the second, the third. I wanted to finish my studies for music. When I went to the music club, because I gave you a study to finish a music organization, for music, there was no teacher of music. There was a teacher, a teacher, a teacher, because there were teachers in the girls and the teachers in the girls. There was no teacher of music in the girls. I wanted to do something else, because I had to do something. I didn't do anything to do music with anything. And I continued to play a trompet. Whatever I did, I ended up, I got the success of my life. By taking the success of my life, I had to go to the academy. At that time, I started the farsars. And my father had to go to the academy. My father knew that I didn't stay here, because he didn't understand why I was there. The first thing was to leave. I asked him 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 to finish my studies. I didn't know where to go. I asked him to finish my studies. I came here 18 years. I started my studies at Pythagoree II. I was on the academy, on the trompet, on the track I knew. I had to do something from the beginning, but I could go faster. I didn't do it from the beginning, because it was a great age. You don't have to do anything in music if you didn't have done anything from the middle. Because it was many of the lessons. And the most popular ones were around the 13 of the lessons. I had to do something from the beginning. What I had done with it. The soul phase, the story of music, the morphology, the whole thing. What I had done with it. I came here, so I came back to the school. I didn't know anything about it. So, I started from there, I started it. I went to the trompet and the anoint of the treompet have been settled in Pythagoree II. And the night I worked together on a tunnel. con una figlia che mi ha detto a 2 anni, per andare a me e la mia moglie, il mio moglie, Marina Krilovitsch, e la mia moglie, mi ha detto che mi ha detto a me. Mi ha detto di andare a me e la mia moglie, La mia prima volta che mi ha chiesto di un'errore, perché mi ha detto che mi ha fatto un'errore, perché avevo fatta la mia sono stato attenzionato, ma non volevo fare un'errore come quello che cosa, ma in 1926-1927, la mia mia ha fatto un'errore. Mi ha chiesto di un'errore, per me vengare un'errore, perché mi sono stato un'errore, e ho dovuto andare a fare un'errore. il nostro canale. Tornato, mi ha fatto una volta, mi ha fatto 3 mesi con il mio amico, ogni giorno, poverso, mi ha fatto una cosa che mi ha fatto e ho parlato a alcuni. E' stato fatto, perché mi ha fatto tutto il giorno, non ho fatto, perché mi ha fatto il giorno, quando mi ha fatto la mia vita, mi ha fatto un po' di nuovo per me, per me, per me, per me, mi ha fatto il giorno. Il giorno, la mia vita, Io avevo un giocatore, che avevo i suoi stati in tutto il tutto il giorno. La partita, ovviamente, sul cibo, sul braccio. Inoltre, il lavoro ai servitori. In altre cose, in generale, la musica ho studerato. In generale, studiando i altri, e ho fatto anche i altri. Inoltre, 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 quando era il sabato-quera, quando era il sabato, pò che mi sembrava, mi erano, nella strada, in paese. E' un giallo. E' un giallo, mi erano molto bene. Mi stiava. ora su tre giorni, questo era ogni giorno, per anni. E, prima di fare il ragazzo, mi ha dato l'opportunità di dare un'attività in 3 mesi, 4 mesi, perciò. In generale mi ha dato un'attività, nel settembre, nel settembre, nel settembre, nel settembre si è iniziato, in quelli che mi ha dato l'attività, avevano un'attività di circa 13 persone, che avevano grandi nomi, come il Kostas Paschalis, la signora Morfoniou, la signora Krilovic, i di fintrea, i lulli, i lulli, i lulli, i lulli, ognòματα che non conosco, non conosco, non conosco tutto il mondo, e c'era anche altri, e altri, e altri, e altri, molto. Acuvandati i dettagli, a qualche stanza, ho fatto un'attività, ho fatto un'attività, mi sono nella scena, mi non mi piace, mi grazie e non mi piace, ma non mi piace, perché era il sogno di un'attività, non mi piace, ho fatto un'attività, e non ho fatto un'attività, non ho fatto mai quando mi grazie. è qualcosa che non mi cazano, non mi viene da dentro e quindi, mi vengono con una fase di questo, ho detto che ti ho detto e che il dalscala è tutto ok, mi sono trovato, mi vengono, mi vengono a me vengono, mi vengono a me faccio, mi sono avuto, mi vengono a me valono mi vengono con il dalscala, mi dicevo a te dice, mi dice, non mi hanno detto No, 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 no. E' un'unico molto aperto. E' perché? E' un bambino che diceva molto bene. E' un bambino che diceva che c'era il bambino che non è altissimo. E' un bambino che diceva in un'attività. E' un'attività che è un'attività di più alto. E' un'attività prima di un'attività. E' un'attività di un'attività di un'attività. E' un'attività di un'attività. E' stato una musica. E' stato una cosa che mi piaceva molto. Mi lavoravo con i giorni non avevo. Perché i liriki erano la mattina, 2-3 ore. E' stato molto tardi. Mi lavoravo in Kipro. Mi lavoravo in Kipro. I lavoravo in Kipro. E' stato un lavoro. E' stato un momento in cui la mia vita è stata fatta. E' stato un problema. E' stato un paese. E' stato un paese. Mi surgeriese. E' stato un properly auto-cobili. Fi ok? While ho sapato. E' stato un problema. E' stato un piccolo de la cintille. E' stato un paese. E' stato 7 anni. Fionnico. T' racks barato. könnten Brother. Ich reden ici. Grazie mille, perché avevo il bambino e non potrei farlo solo per farlo la giornata. Ho una ragazza, che è 18 anni, e la mia ragazza è qui ora, perché potrei farlo più tardi dall'Europa o iniziare a fare qualcosa con la musica, perché altrimenti possono trovare molti possibili. In questo tipo di lavorare sono le possibili. e se trovare qualcosa, se trovare l'elemento laico più grande, è una paràdosi, non mi chiede. In Italia, se trovare molte taverneri con l'elemento musico e buzzuccia, ma per il tipo di raggiungo che faccio il resto o qualcosa, o che fanno alla classica musica. Ho lavorato anche come servitorio in taverneri e in mangiare, dovevo fare i mangiare. dovevo vedere in serbito e ho avuto vuelto a te rinchesi e ho piacato. E poi i loro pucano tanto. Quellante la gente. Ad esempio, quando mi vedeva un altro o una serbire e che le dice da no diciamo e non le dice nulla. I progett никаких, ma i progetti che sono meglio. Perché non c'è il progetto del progetti. E determina le progetti e mi piaceva tutto il mondo. Non mi piaceva muchos, ma i suoi. o ciascuno sull'idea in cui si piaceva e in cui si piaceva più, in cui si piaceva. Non credo che l'Eglia non rende l'evoluzione a la musica, credo che molte volte è anche il tema tichis. A me non mi ha aiutato il tichis nella vita. Proverò, lavorando l'anno prima, nella mia vita, l'escrizione, l'escrizione, Sono un'indico, 1-2 volte nella domanda lavoravo su piano restaurant, oppote, nel settembre, avevo la possibilità di 4 anni di lavorare nel Gran Bretagna, nel Xenodocheio. Mi ha chiesto di alcuni miei, che sono il pianista, il Pedro Scalpatakis, mi ha detto che non è arrivato una volta, mi ha detto che non è arrivato un'aria, perché il mondo è qui, voglio fare qualcosa di molto bello, e voglio fare qualcosa di bello. E' stato molto bella. Finalmente, ho avuto la mia quinta. E ho 4 anni ora e sono inizio. Non ho scoperto in me. Mi piace. È bello. È in mezzo, 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 è in mezzo. Abbiamo spettato molte cose ogni volta. D'accordo, diciamo diversi cose ogni volta che lavoriamo in me. Questo mi ha fatto che a me non mi sentiamo bella. Perché faccio cose cose, faccio cose cose. N'è ho appare con l'attacco che voglio fare. Molte cose nella vita non sono tanti. Voi arrivano l'ora che bisogna e l'ora che bisogna. L'ora che bisogna. L'ora che bisogna. Voi vivere la vita. Sei pronto. Perché non c'è quando l'ai avuto l'opportunità. Non c'è l'opportunità. 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 Mi ha fatto una scoperta. Non c'è qualcosa. L'opportunità. 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 è molto piccolo, non è possibile che non si pensi che ora io non mi perdono, perché non mi perdono, non mi perdono. Non mi vuole, perché è un problema che vuoi fare nella vita. Una mia figlia mi ha dato a me, e mi ha detto che non puoi andare all'interno sul externo. Io non ho capito con l'internet e con l'elettronica. Non avevo un problema con l'elettronica. Mi ha detto che vieni a l'internet, dove vieni la visione in Europa. E provi a cercare di farlo. Vieni a vedere cosa succede, cosa succede e cosa succede. Vieni a dire cosa e cosa succede. Non lo sai, ma non lo sai, ma non lo sai, ma lo sai. Ma non lo sai, ma non lo sai. Ma non lo sai, ma non lo sai. Ma in tutto questo, l'internet, dove vieni la visione, in cui si è iniziato, in giovani, manager in tutto il mondo, dove vengono circa 50, in giovani. E' stato il più vicino, mentre io ho capito, in cui potrei anche capito sul programma. Perché le persone avvino anche la provocazione, e quando il programma non puoi non fare un periodo di tempo e non hai la possibilità e non lo sai non puoi andare a fare in questo externo perché in questo caso non stiavano non è come qui qui se lo sai con un'andrea e non perebbe a fare un'altra porta ecco non stiavano, ecco non ha riuso a nessuno nulla, nulla fattasso, ad esempio, quando fanno a dare un'udizion mi cambiarono tre volte il programma in un mese capito, non stiavano,ARDO tutti i due o tre erano goni e non mi era per a riuso un'udizion a fare un'udizion in Stockholm, in sue c'è un'udizion c'è un'racуется un'racbeitet mano a che συngerazza perché tutti gli operandi c'è un'rac muted a tutti gli operandi e le raguoristas del mondo e le raguorizano anche con le operandi in a sufficienti operazioni. Il concetto di scritto ha lavorato con 15 operazioni in tutto il mondo. Partendo dalla Rial Opera fino a qualunque. Non puoi capire l'opportunità. Solo i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi erano i ragazzi che avevano la musica, i ragazzi che conoscono la musica, i ragazzi che conoscono i ragazzi e che conoscono i ragazzi. E' una mezzo di scopo e che conoscono i ragazzi che possono fare da una cosa. Ci sono i ragazzi che vogliono fare da una cosa. Ci sono diverse cose e sono speciali per questa lavoro. Poi la decisione e ho fatto e ho fatto il 22 Maritì, perché i 24 anni sono i giorni che mi stai messo i messi i ragazzi, i ragazzi, mi sono riusciti. E' stato fatto anche una solist e una chorozata. e mi dice che ci saranno qualcosa, non ci saranno. Perché i tenori in questo mondo sono piccoli, la sua voz è per la sua abitazione, e sono piccoli, i ragazzi sono piccoli, e sono piccoli, e magari ho avuto le miei e io. Finalmente, mi senti, mi sono piaci, mi piaceva, non mi ha detto nulla, mi ha detto grazie, mi sono venuto, Questa è un'esperto, in realtà, dopo un'esperto, ho fatto un'esperto, ho fatto un'esperto, e ho detto che io sono andato, perché non mi faccio un'esperto, perché non mi ricordo che è avuto la porta, che hai avuto, che hai avuto, tu stai mai, ma tutti i miei lecci. Perché tutte le cose stavano inelettroniche. Per me è molto difficile questo tema. E dovrebbe avere un altro dico, ognuno che mi potrebbe aiutare in questo modo. Tanto, mi sono riuscita un pozzo, perché le fatture non aveva, perché non avevo un pozzo. Prendi le fatture, infatti, e ora mi sono riuscita. Perché anche i suitori, il xenovoquio, il pianista è qui, perché lo pianista è qui non è asciato. Per un'ora il pianista è stato 100 euro. 100 euro, lavoriamo con le bambini, e lo facciamo. Zoristica liggacca Alla sto paro, ho deciso di farlo E poi vedo cosa succede Entrata Mi stavano un'e-mail E' stato un'e-mail Mi stavano un'e-mail Mi è venuto che è ok Ho dovuto fare il 13 August 19 E' venuto E' venuto E' venuto E' venuto un'e-mail E' venuto un'e-mail E' venuto Mo'lge E' venuto, dopo un'e-mail E' venuto un'e dobbiamo Aneure, non, scolno Moreover, il tempo Diente Di il viaggio S'il Il chi ha ucciso Lofera E' venuto Non so ' Sto cattò cattò rè, figlio, non vieni a mezzerci le fattati a mezzerci di lavoro. Cattavi, dicembre, cercare di fare il sogno di realizzazione. Se ho trovato la vita di fare le fattati a mezzo di raggiungo, credo che in liceo che ero 27-28 anni, che potessi fare anche i giovani, e che ero anche un bambino, 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 un bambino in Italia. E' stato molto facile, per esempio, fare qualcosa in Italia. E' stata una buzzuccia che era pieno di rè. E' stata una buzzuccia che era pieno di palazzo, la buzzuccia che era pieno di rè, i tappana in tappare, e' stato pieno di rè. E' stato una buzzuccia che era pieno di rè, o per fare una buzzuccia che era pieno di rè. E' stato un bambino, in realtà, ad usare un potevo molto difficile suplice. Il potevo il tuo tipo di rè, e' un potevo molto, perché ho chiudere. E' stato un potevo, credo sempre a me, e' stato un potevo, che posso fare qualcosa di quello che mi piace molto più. E questo è il sogno della vita di un altro, di fare qualcosa per l'automobile, di quanto si vive. Non c'è la vita nella vita, perché non potrei farlo mai mai, perché non potrei farlo mai. Ho fai molti, oltre la mia vita, oltre il soggetto, oltre il soggetto, oltre il soggetto, oltre il soggetto, oltre il soggetto con gli altri, oltre il soggetto, oltre il soggetto, oltre il soggetto, eppure il soggetto, eppure il soggetto, che ho fatto un po' di più, eppure ho fatto non ho fatto il soggetto. Ma il soggetto è che, mi piaceva la via, eppure lo faccio sempre, eppure lo faccio sempre, oltre il soggetto, è qualcosa che ci dà la vita, è qualcosa che che mi piace la vita. Questo il soggetto che mi sento, io, eppure il soggetto, che nessuno, che nessuno che aveva questo che mi sento, eppure il soggetto, che mi sento, quando mi sento, un soggetto, io mi sento un soggetto, non c'è cosa ho detto, eppure il soggetto, non c'è cosa ho detto, eppure il soggetto, quando il soggetto il soggetto, capire il soggetto, il soggetto il soggetto. Quando il soggetto, quando il soggetto il soggetto, io mi sento un soggetto, eppure il soggetto, eppure il soggetto, eppure il soggetto. Eppure il soggetto, non c'è nulla. non c'è nessuno che vive dal soggetto eppure il soggetto che sono cercate di questo, ma non c'è nessuno. Mi cercano di lavorare, perché il soggetto che ci vorrei, sono molto, per fare qualcosa di un'escrizione, per avere 5-6 milioni, per essere una casa, magari uno spiego, non c'è nessuno di tutto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.